Sono ricominciate in Nabi le trattative per il rinnovo del contratto nazionale del credito. Massimo Masi, segretario generale della Wilka, si entra nel vivo? Sì, finalmente si entra nel vivo. Certo le distanze sono ancora molto lontane, l'abbiamo sentito oggi, ci sono ancora molte differenze, però almeno siamo entrati nel vivo e che quindi nelle prossime giorni, il 20-27, incominceranno tre riunioni, di cui una riunione sul tavolo principale dove si affronteranno i problemi forse più forti, quello della richiesta economica, dell'occupazione e del contorno del mandato contrattuale, ovvero sia quali saranno i demandi e gli essenti contrattuali. Poi si saranno aperte due cantiere di lavoro, uno sull'area contrattuale e uno sull'inquadramenti. Quindi con molta tenacia apriamo questa trattativa, vedremo come saranno i frutti, ma almeno si incomincia a parlare di cose concrete e non solo di cose aleatorie, ma finalmente si entra nella nostra piattaforma, nelle nostre richieste che abbiamo fatto nel mese passati e approvate dai lavoratori. Ecco, la posizione della Wilka qual è? Cosa chiedete soprattutto? Noi abbiamo detto nel corso del nostro intervento oggi alcune cose prioritarie. La prima, noi siamo perché la centralità del rinnovo del contratto nazionale sia prioritaria, cioè il mantenimento per tutti i lavoratori del contratto nazionale. Siamo però disponibili a maggiore apertura per materie demandate nei contratti aziendali, però ad alcune condizioni. La prima condizione è che si smette di fare contrattazione aziendale, ma si facciano dei veri e propri contratti integrativi, iscritti dove ci sono i diritti e i doveri dei lavoratori e che nei contratti integrativi aziendali si possa andare a recuperare la produttività. Soltanto in questo modo si fa una vera contrattazione aziendale. Secondo, abbiamo detto che l'aspetto della finanziaria preparata da Renz, poi vedremo come si sarà dal Parlamento, ma certamente con l'IRAP e i bonus sulle assunzioni sono abbassamenti del costo del lavoro che non possono essere soltanto considerati a carico delle aziende. I lavoratori anche su questo devono avere una loro quota e di loro spettanza. Inoltre abbiamo detto che siamo disponibili ad affrontare tutte le materie perché obiettivamente vedremo domenica con l'esito degli stress test e degli acquere come sarà il risultato se ci rendiamo conto che la situazione economica del Paese, delle banche, è difficile, quindi ci rendiamo conto che è disponibile a trovare soluzioni per tutti i problemi che ci sono. Ma questi devono essere affrontati in maniera paritetica e con la pari dignità con la controparte. Se la controparte vorrà fare questo, noi siamo disponibili, altrimenti si aprirà una fase conflittuale. I lavori delle commissioni dovranno terminare entro il 20 di novembre per portare il risultato entro la fine del mese di novembre, inizio del mese di dicembre, per provare di chiudere la contrattazione nazionale. Ci proveremo, terremo informati i lavoratori minuto per minuto perché questa è una partita grossa e sarà un rinnovo del contratto da quello che si può capire che veramente sarà epocale perché ci sarà un cambiamento molto molto forte. Grazie.